Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi faremo le chiacchiere. Servirà farina, uova, sal, burro e liquore all'anice. Versiamo la farina, le uova, il burro, il liquore e tre pizzichi di sale. Ora mescoliamo il tutto fino ad ottenere una palla. Ottenuta una palla, ricopriamo con pellicola trasparente e mettiamo a riposare in frigo per 90 minuti. Ora mettiamo la frolla in una macchinetta per la pasta oppure facciamo quel mattarello. Deve risultare sottile sottile. L'impasto deve risultare così sottile. Adesso con una rotella zigrinata così tagliamo a rettangoli o a rombi come preferite. Con la rotella facciamo un taglio al centro. Ora si possono friggere in abbondante olio caldo. Vedete come si formano le bolle? Queste sono le mie chiacchiere di carnevale. Spero che questo video vi sia stato di ispirazione. Se le fate inviatemi le vostre foto su Instagram, sono sui dolci. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e condividere le mie ricette. Ciao a tutti e alla prossima videoricetta!